La criminalità organizzata ha rafforzato i suoi traffici in Toscana, salita dal settimo al sesto posto in Italia secondo l'ultimo rapporto sulle ecomafie di Lega Ambiente presentato a Firenze. Oltre 2.500 reati accertati nel 2012 con un incremento del 15,4% rispetto all'anno prima. Una situazione che progressivamente si aggrava e che, secondo Lega Ambiente, può essere contrastata solo partendo da una riforma normativa richiesta inutilmente da 20 anni. Introdurre il delitto ambientale nel nostro codice penale. Ancora oggi purtroppo a fronte di reati che attentano l'ambiente, gli ecosistemi, la salute dei cittadini ci troviamo dinanzi a reati contravvenzionali che si prescrivono in poco tempo garantendo l'impunità. La Toscana è terra di elezione soprattutto per il riciclaggio del denaro sporco nel ciclo del cemento quindi attraverso cantiere edili, strade da gioco, grande distribuzione, appalti e subappalti. La presenza della camorra si concentra nel triangolo Prato-Pistoia-Lucca, nel Valdarno superiore e nell'Aretino ma anche l'Andrangheta è sempre più presente mentre le mafie russe prediligono la Versilia. Sul fronte ai rifiuti il maggior numero di inflazioni sono state scoperte nelle province di Firenze, Siena, Livorno e Arezzo. I cantieri aperti a Firenze per l'alta velocità ferroviaria sono un triste esempio sia di illecito smaltimento dei rifiuti che di lavori realizzati senza requisiti di sicurezza dopo il sequestro di una maxi-trivella. In aumento gli incendi dolosi con quasi 700 inflazioni accertate e 113 persone denunciate.